Oggi noi abbiamo bisogno di diminuire la pressione fiscale, lo facciamo con la diminuzione del cuneo fiscale, cosa richiesta da tutto il Parlamento, ma richiesta anche da Confindustria, anche da tutte le associazioni di categoria. Lo facciamo tentando di dare risposte all'aumento dell'inflazione che è ancora forte, anche se è molto diminuita, come ricordava. Lo facciamo in una delega fiscale che sostanzialmente tenta di dare coerenza a quanto detto, prima in un programma elettorale, poi in un programma di governo, che si riassume nella frase che Giorgia Meloni disse in Parlamento il primo giorno di governo. Non disturbare chi ha voglia di fare, e lo si fa accompagnando una ripresa che in Italia c'è, se è vero che abbiamo il più 1,2% di PIL rispetto al 22, che non sarà il paese di Bien Godi, ma rispetto allo 0,2% della Germania, allo 0,7% della Francia, è molto. Abbiamo i 23 milioni e 300 mila occupati, che sono il massimo storico, raggiungendo l'8% di disoccupazione, che è ancora tantissimo, ma che è sicuramente meno del 22 e molto meno del 21. Lo facciamo riducendo il rapporto deficit-pil di almeno 4 punti percentuali, lo facciamo ritornando con un avanzo primario, cosa che gli altri paesi europei ancora non sono riusciti a fare. Ecco, lo dico dicendo che stiamo cercando di accompagnare una ripresa economica che è merito degli italiani, che siano dipendenti, che siano autonomi, ma che, voglio dire, aspettano queste risposte da troppi anni.